Ehi Bobby, dammi un secondo, volevo parlare un attimo di Disney Plus che parte ufficialmente oggi e ne avevamo parlato... quando era? A aprile, magari lo riprendo quel video lì Disney Plus, guerra dello streaming contro Netflix, come state pazzi furiosi? Eccoci qua, eccoci qua, ero un sacco che non facevano una diretta per cui ho detto dai, piazza una direttina così volante, almeno ci salutiamo un attimo e commentiamo questa notizia che può tornare utile e interessante per chiunque faccia startup, non solo, anche per tutti quelli che vivono a spararsi serie televisive, eccetera, eccetera, eccetera Ciao Diego, Marcello Fontana, Avito, Cucci, Bianca Mano Desani, M25 Alders, Giovanni Nicola Magliette Insomma, un saluto a tutti, allora parto ufficialmente oggi Disney Plus il servizio di streaming di mamma Disney, il topolino, topolino che a Shanghai, quando sono andato a Disneyland, era lì, bello, in bella mostra e pensate cosa ha fatto Disney in questi anni ha creato contenuti pazzeschi e in più, sotto la cuta guida di Bob ha comprato una marea di aziende, no? e ha creato questo impero mediatico ugualmente però la gente non è che dice eh, però io faccio, stasera mi guardo Disney no, stasera mi guardo Netflix, no? Netflix and chill, bla 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 e allora, giustamente, hanno cominciato a mettere le manine avanti e a organizzarsi per lanciare questo servizio di streaming Disney Plus che peraltro arriverà in Italia a marzo anche qua in Inghilterra arriverà a marzo con investimenti nei vari posti per creare poi contenuti locali questa la situazione sozzicali, monti for president 2020 mi candiderò alle presidenziali americane volevo anche dirvi questo contro Trump, vado, io e la Warner torniamo a Disney Plus allora, oggi esce questo servizio costa un cacio e un barattolo ci sbattono dentro tutto interessante la strategia peraltro di Disney dove in pratica hanno pullato hanno tolto pullato non era male hanno tolto da servizi tipo Netflix o altri servizi di streaming hanno tolto in questo periodo di tempo la possibilità di avere contenuti Disney perdendo un sacco di soldi perché sai, se davano i contenuti cuccavano centinaia di milioni di dollari invece hanno detto no, i contenuti li mettiamo solo da noi dentro Disney Plus e poi tu utente se vuoi vedere i nostri Marvel i nostri supereroi i nostri Guerre Stellari e compagnia cantante a questo punto paghi abbonamentino e vedi tutto e vogliono arrivare nel giro di tre anni mi sembra che la stima peraltro vedevo abbastanza probabile insomma, che raggiungano è una roba tipo 80-90 milioni di abbonati a questo servizio nel giro, insomma, di due-tre anni parliamo di Disney cioè parliamo del più grande colosso possibile e immaginabile avevo fatto un video ad aprile dopo l'ho riposto intanto ciao, ciao, ciao e Franco, Isma, tutto, eccetera Omar, Rai, Ricchi, Lauri mai stato a Palermo? sì, sono stato a Palermo tornando a Disney Plus dopo ho riposto sto video perché la mia opinione è che non è mai non sia mai automatico il passaggio da una piattaforma a un'altra non è solo un fatto di contenuto e se volete la mia previsione così per fare qualcosa prima di andare a pranzo e dare così una una sferina di cristallo volante per quel poco che possa valere sapendo che uno non ci azzecca mai però non è mai automatico tu non è che se hai il contenuto migliore allora vinci dipende sai, uno si è abituato c'è l'app è comodo ha tutti i dati della sua carta di credito magari gli piace quell'interfaccia lì cioè far cambiare gli utenti di un centimetro è molto difficile per la mia esperienza è difficile Belin farli passare da una da una piattaforma a un'altra cioè social gratis se io adesso vi dico tutti quelli che sono qui seguitemi sul mio canale YouTube non so magari il 5% converte così no? 10% sono numeri minimi è una fatica enorme far spostare le persone perché siamo pigri abitudinari bla 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 detto questo è ovvio che Disney ha i contenuti e se a te piace capito Iron Man segui Iron Man se ti piace Guerre Stellari segui Guerre Stellari sono anche posizionamenti diversi Disney si rivolge a un pubblico tendenzialmente di bambini e famiglie se hai figli sei fottuto perché devi prepararti a abbonarti anche a Disney Plus e lì è da vedere se ti abboni solo a Disney Plus e lasci Netflix o li tieni tutti e due per cui si può creare anche questa biforcazione in ogni caso vi invito anche ad andare a vedere quest'intervista a Reed Hastings alla New York Times Conferences è un canale YouTube molto carino New York Times Conferences c'è l'intervista lui e ad altri e il vecchio Reed devo dire è molto tranquillo in questo in questo discorso faceva notare che l'intervista peraltro è di pochissimo pochissimo tempo fa faceva notare come la concorrenza sugli streaming ci sia sempre stata cioè loro hanno mille concorrenti ci hanno Amazon ci hanno YouTube concorrono sul tempo il tempo speso l'attenzione nostra delle persone arriviamo lì alla sera cosa guardiamo? Guardiamo l'intervista di Joe Rogan a come si chiama a Desagna quello che adesso è lo striker di colore dell'MMA o guardiamo capito Peppa Pig o Monty che intervista il campione del mondo di ping pong che è quello sarebbe il mio grande sogno però ad oggi non sono ancora riuscito a realizzarlo ed è un fatto di attenzione scegliere il migliore contenuto produrre il migliore contenuto per catturare la nostra attenzione lì è la battaglia per cui ad oggi la famosa guerra dello streaming è già stata vinta da Netflix non è che la deve combattere hanno vinto loro punto arriva però Disney la domanda è resisteranno non resisteranno la mia opinione è che entrambi avranno uno sfracasso di abbonati clamorosi Netflix continuerà a crescere clamorosamente all'estero a livello internazionale cresce bene il mercato è enorme e Disney a sua volta anche farà i suoi milioni di abbonati e saranno tutti felici e contenti ci saranno mille accordi con tutte le piattaforme di volta in volta per scalzare uno o l'altro e la battaglia alla fine è creare il miglior contenuto quello che riuscirà dei due a creare continuativamente i migliori film le migliori serie a azzeccare capito i personaggi giusti sarà poi quello che ti porta che ti porta gli abbonati perché alla fine è quello Netflix però parte da un vantaggino notevole Disney sono fighi però e sono anche molto più grossi fatturano anche molto di più rispetto a Netflix e hanno una storia diversa insomma parliamo di Disney però non è che non si vince mai facile mettiamola così sempre che Disney riesca a vincere cosa che secondo me è molto faticosa senz'altro non nel breve periodo però è come quando tu vedi che ne so Cina Corea finale dei mondiali ping pong a squadra che c'è appena stata immagino tutti abbiamo visto giusto tutti abbiamo visto Fan Zendong non è che Fan Zendong vinca capito 11-0 11-0 11-0 si è più bravo però cazzo 11-9 lì al pelo anche se è un fenomeno anche gli altri sono fenomeni per cui è una battaglia molto 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 tirata e quando vedo che magari qualcuno arriva e dice ecco però Disney arriva li spazza via non spazzano via niente non spazzano via niente ovviamente questi sono solidi Netflix non è una startuppina ci hanno risorse investono 15 billion in contenuti hanno tutto il loro po 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 di roba i loro aficionados e anche un brand molto forte che è una cosa importante così come Disney ce l'ha molto forte e vediamo vediamo chi è chi è più capace senz'altro è da tenere d'occhio quindi concludendo la mia previsione molto interessante ottimo per noi perché abbiamo più scelta ottimo per tutti quelli che creano contenuti perché avranno la possibilità di avere un'altra piattaforma e installeranno instilleranno embederanno maggiore concorrenza il che è comodo per chiunque crei contenuti avrai molta più gente interessata a farti fare dei contenuti e per il resto se ci ritroviamo qua tra due anni prevedo entrambi con una bella solida base di abbonati tutti belli felici e Disney che ha messo un bel piedone nello streaming detto questo tre minuti di domande e poi scappo che ho anche fame allora intanto un saluto ottimo per noi esattamente yes doppia s t-shirt crazy fagna anche perché il tar di Disney non è soprattutto all'inizio quello di Netflix yes Prime Video Apple Plus esattamente chi è giustamente era quello che diciamo prima sul fatto crazy fagna sul fatto che sono target diversi almeno in questa fase per cui è senz'altro una un aspetto di differenziazione e Apple TV Plus Anna Davers cita diciamo gioca un altro sport ovviamente Apple TV gioca un altro sport qua parliamo di titani che hanno partono dai contenuti Apple invece è un'azienda tech che cerca di infilare dei contenuti così come 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 sta facendo Amazon per cui è proprio uno sport diverso è anche un modello di business diverso perché alla fine dei conti Apple vende cellulari adesso la dico brutta ormai anzi no vende Airpods che ormai come diceva mio amico Paolo sono dei fenomeni riescono a venderti un oggetto che è ancillare al prezzo di un telefonino è incredibile cioè un tempo le cuffiette te le tiravano dietro adesso le cuffiette costeranno più dell'iPhone è quello lì il loro margin peraltro fanno già miliardi di fatturato sulle cuffiette però alla fine loro ti vendono cuffiette cellulari detta proprio brutta il contenuto non è il loro il loro modello di business principale ecco questo è secondo me interessante però vedremo chi si sposta chi non si sposta fatemi sapere voi se vi sposterete su Disney Plus quando parte a marzo o meno e anche da vedere poi vediamo com'è questo servizio vediamo com'è fatta l'app insomma ci sono mille incognite ma stiamo con grande attenzione a vedere vi saluto vi abbraccio alla prossima grazie